E' giunta nella notte l'equip dell'ISMET di Palermo per un espianto di Fiegato Erenia, reparto di rianimazione del Sant'Elia di Caltanissetta, diretto dal primario Giancarlo Foresta. Il donatore è un uomo originario di Gela, di 74 anni, che lo scorso 14 gennaio è arrivato nella struttura ospedaliera nissena dopo un incidente con un'auto mentre era in bici. Le condizioni del 74enne, da subito critiche a causa di un'emorragia cerebrale, si sono ulteriormente aggravate fino al decesso. Poi l'arrivo dell'equip dell'ISMET di Palermo, che coordinata dalla dottoressa Rosalba Parla, referente locale del centro Trapianti, affiancata da Giuseppe Di Francesco e il caposala, ha effettuato l'espianto. Il primario del reparto di rianimazione del Sant'Elia, Foresta, ha ringraziato i familiari dell'uomo per la decisione presa con questo atto di altruismo e ha detto che grazie a questi organi potranno essere salvate altre vite.